Oh, hey, ti stai chiedendo dove si è andato Ron? Beh sì, perché anche io non ho la minima idea di cosa sia successo! È sparito! È semplicemente svanito! Non so come, non so nemmeno se è possibile che lo faccia! L'ho solo fatto! E sono così confuso! Oh, hey Bob, stai parlando di Ron in cucina con Ron, di come abbiamo cucinato Ron e adesso che Ron è stato cotto! Sì, lo sai, immagino che potresti dire che Ron si è cucinato! Ha semplicemente visto la circostanza della situazione e ha detto tipo... No! E poi se n'è andato! E non so come, perché è stupido! Mi giro per un secondo e poi se ne va! Sto sognando? Beh, voglio dire, amico, Ron è sempre stato davvero strano! Voglio dire, non credo proprio che dovremmo metterlo in discussione! Dovremmo semplicemente accettarlo come un dato di fatto! Sì, sì, beh, sai una cosa? Non credo di poterlo accettare come un fatto della vita a Little Man! Non penso che sia fisicamente possibile! Questo tipo di confusione confonde tutta la mia percezione dell'ottio reale! Come il fatto che lui potrebbe solamente dire... Sai una cosa? Me ne andrò! E lui se ne va via in natura... È tutto in naturale! È assurdo! Non ho l'idea di come dovrebbe... Come fa... Non so come... Non so come sia stato andato... Non lo so... Non proprio non lo so... Non lo so! Mi confonde! Bob, queste cose io ne sono prese per te! Ma in realtà possiedo una... Friggitrice ad aria! Solo perché possiedi una frigitrice non vuol dire che puoi spostarti nella realtà! Non!